Ok, Alessandrino, è arrivato, ha fatto top 8, troppo bravo, con un mazzo che non esiste, con una combo che non esiste, o almeno questo si credeva. Cosa hai giocato? Ho giocato a BFTK, però senza? Senza, è prima, se si so, cerca la carta che in America fa BFTK solo, e comunque, no, dai, lo faccio. Perfetto, chi hai battuto? Primo turno, ho battuto... No, non direi turni, iulanazzi. Ho battuto unробo di Draco, ho di 2 a 1, poi ho battuto Invocate and the End, Drop Smack Night, ho Ving, poi ho battuto... Pando Magician ho perso, 1 a 2, poi ho battuto Trickster e purtroppo, 1 a 2, all'ultimo mazzo ho battuto... ero tipo un magister... Magispector? no, ho battato un Dark Magician ok vediamo questa bellissima The Christ 3A, 3B e 52C perché in questa combo le carte principali sono A e B CF è meno fondamentale, cioè non serve a nulla per la combo serve a fare una combo e tu fai Firewall, Unicorn Buster se ti rendi conto che non puoi fare la combo ciao a tutti 3Darkurm e un Gate Zero per la combo perché la combo è fare... la vediamo dopo la combo 3Destrudo, la carta più forte del mazzo se vuoi fare la combo ringraziamo Aiello ringraziamo Kami Aiello per... tutte le carte del mazzo i CG Store 3Gamma e un Driver è fortissimo per levare l'entrop si mette in caso che mi fanno Ogre su Ravina Droll Lock su Terraforming servono fanno delle Colle 2D Grave il secondo vuole forte su che non so dire la carta della Vittoria la carta dell'FTK troppo forte le vado e la carta che scrive solo il mazzo che si può scattare che si può scattare che si può scattare che si può scattare magia 3Hunger troppo forte penso senza 3Dnavine per incrementare la possibilità di FTTK 3Collead by the Grave 3Collead by the Grave 3Collead by the Grave troppo forte per le hand drops per giocare più tranquillo 3Terraforming 3Staytle 3Dragonshline troppo forte per mandare Dark World e Destrude come Mono Soul Charge Reborn Soul Charge Pulish e Stratation e invece no eiii povero che vergogno è finita PEMPE ma non bustina PEMPE vero? è come extra giocato Madden Fast Blacks troppo forte ha calato 20.000 volte è senza senso e Omega che ho vinto una partita sola contro Trifter poi come extra ho giocato Unicorn Firewall Goblin Genius Mermaid Cerberus Link Spider e Fenix contro Ichi Gokey come Fusione ho giocato su Panto da Basta perchè comunque non si chiama Cd 2 e come mi dice Cd XS ho giocato numero 42 e GGX dai dimmi giocarlo Red Roll è forte contro Gokey contro DrewDragos contro Spiral, troppo forti Gokki che ti imparnavo Tre Vellad, fortissimo contro Envoked, contro Pendulum contro Gokki contro Gokki Tre Ogri, sempre fortississi contro TrueDrag contro TrueDrag contro Spiral contro Magician Tre TwinTwister contro Maxi con Tre Mazzui che è setta come anti-meta e anche contro Tudrag e tre render un boot sempre più alla stessa motivazione Allora ci vediamo dopo per la combo